Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi andiamo a continuare la serie dedicata all'impianto di illuminazione della Smartina e andrò a cambiare tutte le lampadine interne dentro l'abitacolo andrò a sostituire la plafoniera centrale interna e le luci della plafoniera del baule quindi intro e cominciamo subito ok ragazzi cominciamo con lo smontaggio della plafoniera centrale abbiamo questo vetrino, nel vetrino nella parte sinistra ci sta uno scanso dove poter infilare un cacciavite piatto io ho utilizzato questo che vedete proprio nel video fate leva molto piano e questo già si sgancia è veramente facile con due mani una da una parte e una dall'altra si sgancia veramente facile facile questo è il vetrino, me lo chiamo vetrino qui abbiamo le tre lampadine alogene, si sfilano con le dita non c'è bisogno di andare a rimuovere tutta la plafoniera in quanto non ci sono resistente aggiuntive queste sono lampadine campus con le resistenze integrate, calibrate veramente non scaldano, sono perfette questo è un piccolo esempio prima di togliere le lampadine alogene guardate che differenza tra lampadina gialla e lampadina a led cioè quella alogene e quella led scusate una differenza abissale veramente un tocco di eleganza e sportività assurdo qui l'ho già cambiato tutte e tre tanto dovete sempre sfilare la lampadina e mettere quella nuova niente di complicato qui gioco un po' con le luci senza capire come sono questi interruttori in quanto la macchina non è mia per rimettere la plafoniera basta spingere e ecco fatto vediamo il risultato finale è qualcosa di stupendo continuiamo con lo smontaggio della plafoniera del baule basta infilare il cacciavite piatto in una fessura non sono riuscito a farvi vedere bene perché come apri lo sportello si illumina tutto è un bordello poi bisogna sfilare il connettore premiamo con un dito su un gancetto e questo si sfila veramente basilare questa è tutta la plafoniera dentro ci sta la lampadina sempre T10 piatta con un cacciavite ho fatto leva per aiutarmi e questa è schizzata via lampadina per l'interno T10 se mi la galvin ve lo ricordo sempre campus questa la si infila la dobbiamo spingere bene fino in fondo ci sono due linguette metalliche che fanno contatto sulla lampadina quelle devono stare bene a contatto belle strette così siamo sicuri che questa non scappi veramente l'effetto è poroso ragazzi qui si vedono benissimo le linguette si rimette il connettore ora ecco qua c'è effetto pure qui strabiliante veramente veramente ottimo luce è veramente bella ok ragazzi abbiamo visto praticamente come sostituire le lampadine della plafoniera centrale e della plafoniera del baule veramente operazione semplicissima basta un cacciavite piatto come avete visto e si sfilano le lampadine alogene eccole qua quell'altra che è saltata poi la raccatterò e infilare le nuove quindi non c'è bisogno di fare nessuna modifica sono plug and play 6000 kelvin campus completamente quindi zero errori zero sfarfalli quindi se volete ulteriori informazioni non esitate a contattarmi su instagram o per email per questo video è tutto vi ricordo di seguirmi di lasciare un bel mi piace al video e di seguire xanon per tutti ciao a tutti ragazzi iscriviti al canale